a macchiaioli e per di fumo si giocano l'ultimo quarto di finale d'europa league che manca l'appello che vince oggi affronta in semifinale la formazione della Rudi Kopp la partita tra Partizan Belgrado e Real Madrid che è finita a 9 a 5 quindi prima occhio destro piegato massa batti loro fa 1 a 0 immediato per di fumo in vantaggio giocheranno le 22.30 in contemporanea Filippo Aiello dentro l'area col destro Maringhi ancora col tacco se la spossa destro di batti loro deviato e fa la doppietta dopo nemmeno 10 minuti batti loro Zaccaria occhio alla pressione ora palla persa Maringhi fa 3 a 0 Pedrito sull'errore della difesa degli ammacchiaioli per di fumo 3 ammacchiaioli gli ammacchiaioli palla nel box si coordina così scusi la M della scuola del carerlo di fumo apre a giro deviazione di massa in corner Aiello persa torna dietro da massa pressato la ruba Pedro e fa un'altra rete 4 a 0 disastroso Jacopino qua eh questo retro passaggio killer facciamo Busiello polvestro la palla non scende non è l'aria prova a salire Busiello Esposito la raccoglie tocca c'è lo spazio di Scarpato col destro risponde De Maio c'è la punizione col destro grampa varasoterra deviazione e il pallone si inzacca alle spalle di massa eccolo c'è anche la dedica straordinario grampa però occhio perché insieme al vento si mette anche la pioggia mentre Massa va vola sulla battuta e la ripresa blocca ancora oh no sinistro e spacca la porta da 6 a 0 grampa ma questa pennella prefe buono scuro sale lui tocco per Marenghi e la rimette dietro Angelo rasoterra ma non a Di De Maio poi prova Busiero ancora tre battitolo di testa preciso Marenghi stensata entra in area sinistro miracolo e poi grampa e poi scelto De Maio non vuole prendere colpa faccia riccio sinistro De Maio è triplice fischio i perdi fumo staccano il biglietto per andarsi a giocare la secondaria dell'Europa League contro la Rudy Crohn una partita giocata sotto una tempesta pazzesca di Tocetta di Tocetta